Tutti per lui però eh, anche voi da casa, anche voi che lo seguite su Discovery Plus, statene certi, lui vi sente. Tocca andare a 2.36, lui che in questa stagione è arrivato a 2.34 ma sa di valere quella misura, sa di poterla fare. Sale l'urlo della folla, sale Gimbo Tamberi, è debatto, è questo il salto, 2.36, questo è il salto, si impazzisce, in tribuna esplode Budapest per Tamberi che più salta e più resta calmo, più salta e più resta calmo, tranquilli eh, l'abbiamo capito, sì. È partito con la batteria e adesso è lui che dice al pubblico di stare calmi. Ok, adesso lo vuol sentire, il miglior salto dell'anno, 2.36, una mossa che è quasi uno scacco matto, quasi, con Budapest non c'è mai scacco matto, ma questo fa davvero male. Grazie. 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 Grazie.